Grazie E naturalmente informiamo anche i vocatori di esperienza, di un'unica che si può aiutare molto, diciamo, in questo momento, sono anche due mesi in questo momento. E' un'impressione della preparazione tra i vocatori anche dopo questi giorni di lavoro intenso? Noi, quando vediamo vicino, diciamo che gli interiagni non si sono riusciti, ma non solo da parte noi, ai proprietari, ma in particolare io come la nostra cura non ho un disagio, perché io ci sta, io ci sta a coinvolgere, io non ho un disagio altissimo, e tutti i vocatori stanno movemando questa attenzione in maniera positiva, quindi lo stesso è un lontano che non mi ha vedere già questo nuovo.